Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare. Sono passati 20 giorni dal 3 agosto, quando Giuseppe Conte manifestò davanti ai microfoni la sua contrarietà per l'emergenza rappresentata dall'immigrazione clandestina, che non ha fatto altro che alimentare le tensioni sociali e influire negativamente anche sul versante sanitario. Il premier aveva speso parole che facevano sperare in un'azione di governo determinata, e invece nulla è accaduto e la situazione ora sta precipitando, la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, aveva dichiarato Conte, e i risultati non possono essere vanificati addirittura da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria, non ce lo possiamo permettere. Le balle del premier non sono sfuggite a Giorgia Meloni, che parla di sbarchi senza sosta, immigrati clandestini spesso positivi al Covid che sfuggono ai controlli e le nostre forze dell'ordine affrontano situazioni insostenibili. Caro Conte, è la fondo della leader di FDA, di intollerabile c'è solo la folle gestione dei flussi migratori fatta dal vostro governo. Conte, è la fondo della leader di FDA, di iniziare a Giorgia Meloni, che parla di sbarchi senza 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 sbarchi. Grazie 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 a tutti.